Già tra come un gabbiano la nuova BMW i8, la vettura che illumina il futuro, perché? Perché è la prima vettura ad avere proprio i fari a laser, due motori, un twin power turbo e uno elettrico, ben 37 km di autonomia in modalità elettrica, insomma l'auto che guarda e conquista il futuro. E noi invece siamo pronti a conquistare il nostro appuntamento urne. Di che si tratta? Non vi dico niente, seguiteci. Grazie.